Fratelli bianconeri e non, buonasera a tutti i vobis. Dunque, pagellasse di Juventus Lazio, la quale Juventus vince 3 a 0, risultati ai quali non siamo molto abituati, contro una modesta Lazio. Ora, io so che questa parola modesta, e l'ho già notato alla fine della partita in chat, mi creerà ulteriori nemici. Perché? Perché purtroppo io non riesco a vedere il calcio come lo vedete voi. Cioè, a voi basta vedere una partita mediocre come quella di stasera, mediocre l'avversario intendo, non la Juventus, come quella di stasera, che vi si riempiono gli occhi grandi Allegri, grandi giocatori, grande questo, grande Agnelli, grande proprietà, grande... No, mi dispiace, per me non è così. Rimango dell'idea che questa squadra ha ancora delle lacune che deve migliorare. Stiamo migliorando, siamo sulla strada giusta, la squadra si è parlata, si è compattata e ha cominciato a rendere. Evidentemente la chiacchierata fatta da Arriva Bene, Nedved o chi per loro, alla squadra, quando la squadra faceva ridere, evidentemente ha sortito gli effetti. Evidentemente un leader come Danilo, e non so se sono lui, negli spogliatoi ha parlato e probabilmente i compagni di squadra hanno recepito qualcosa. Questo mi sovviene dopo sei partite di campionato consecutive vinte, con avversari dove non ne ho visto uno veramente forte, ma io ho visto tutte delle squadre imbarazzanti o quasi nelle nostre vittorie. Però evidentemente siamo tornati a fare paura e questa è una cosa molto positiva, perché l'Inter, evidentemente, la Lazio stasera, si sono spaventate dalla ripresa della Juventus, se la sono fatta sotto e quindi la Juventus è salita in pompa magna. Per me invece, ripeto, non è così. Io comunque stasera ho visto un primo tempo molto noioso, ma soprattutto visto da ambo le parti una marea di errori. La Lazio è stata mediocre quando nel primo tempo la Juventus è stata mediocre, o poco più, ed è stata mediocre quando nel secondo tempo la Juventus è salita in cattedra. È stata la stessa squadra. Con una Juventus mediocre, la Lazio è stata ancora più mediocre. Con una Juventus un po' in pompa magna, comunque la Lazio è stata mediocre. Dove sta la verità? Non lo so. Andando avanti, poco altro da aggiungere, perché la partita è stata questa. Uniche cose degne di nota all'uscita di Milinkovic-Savic, probabilmente per un mezzo infortunio anche c'è stato un applauso. Speriamo che vada a finire come contro Ronaldo, come con Ronaldo, che l'anno prossimo Savic faccia parte della squadra bianconera. Ce l'auguriamo tutti. Ma questa è stata la partita della sosta, l'ultima partita di questo spezzettato campionato, che adesso non vedrà più la Serie A protagonista per addirittura quasi due mesi, perché si ritornerà a giocare a quasi la metà del mese di gennaio. È un periodo lunghissimo. Non so come faremo senza la Serie A. Non lo so. Però domani è il primo giorno di questi 55 giorni di astinenza che ci aspettano. Speriamo che passino in fretta. Per cui ci dovremo dedicare al Mondiale. Mondiale che purtroppo non vede protagonista l'Italia, ma tant'è. Cara Serie A, arrivederci a presto. Detto ciò, sulla partita Juventus-Lazio c'è poco altro da aggiungere. C'è stata una Lazio talmente poca che, ripeto, quando ci sono partite di questo tipo non so mai decifrare di preciso se gli avversari che sono stati troppo scarsi o noi che siamo stati troppo forti per loro. Beh, vi dirò. Stasera, nonostante riconosco la pochezza della Lazio, devo dire che è stata qualcosa di più la Juventus, secondo me. Riconosco però, ripeto, la pochezza di una Lazio che stasera veramente non è esistita. Veramente non è esistita. Questo bisogna riconoscerlo. Ora ne abbiamo parlato lungamente in chat, quindi perché continuare a dire le cose come stanno. Siamo contenti? Prendiamoci questi tre punti. Siamo terzi in classifica. Io sarei anche contento così se il campionato fosse finito oggi, perché questo vorrebbe dire che siamo in Champions l'anno prossimo ed è la cosa più importante. Invece questa stagione ci deve riservare ancora, speriamo, buone nuove, perché ci sarà l'Europa League che noi comunque dovremo rispettare e giocare e magari provare a vincerla, perché così l'anno prossimo andremo a combattere per la Supercoppa europea contro chi vince la Champions quest'anno e questo sarebbe importante. Qualcuno ha cominciato a parlare di Scudetto. Io non ne parlo sicuramente. Io credo che ci sia troppa distanza attualmente tra Napoli e Juventus. Il Napoli che continua a volare, la Juventus che ha ricominciato a battere le ali da qualche partita a queste parti, ma ancora non basta. E alla ripresa del campionato per il Napoli ci sarà la Juventus e l'Inter. Per la Juventus ci sarà il Napoli e l'Atalanta, oltre all'Udinese. Quindi sarà una fine di girone d'andata tutta, tutta, tutta da vivere. Con un mondiale che ovviamente potrà far esaltare qualche giocatore, qualcun altro si deprimerà, qualcun altro tornerà infortunato della serie. È un campionato, diciamo così, a due facce e credo che alla ripresa ci sarà da divertirsi. Detto tutto ciò, pagellasse di oggi. Scezni, sei e mezzo. Reattivo, prontissimo, la Lazio non punge quasi mai e per questo passa una serata abbastanza tranquilla, però viene chiamato da due tiri più che altro in causa e devo dire se la cava bene, quindi niente da segnalare. Gatti, gli do sei. Gli do sei perché secondo me ha fatto un errore nel primo tempo che sono errori pericolosi. Per fortuna è stato un incidente di poco conto perché entrate di questo tipo possono anche darti il cartellino rosso talvolta. Non era da cartellino rosso ma va a capire alle volte con gli arbitri. Ma è un giocatore che non si fa minimamente influenzare e continua la sua partita. Da quell'errore lì le cose migliorano un po' più sul pezzo, devo dire. Ovviamente è ancora mediamente giovane, ha tanta crescita davanti e io sono convinto, come dico sempre, che diventerà importantissimo. Questa dovrebbe essere la difesa sempre, secondo me. anche a quattro andrebbe bene, anche a quattro. Sei per Gatti. Bremer sei e mezzo, gli do sei e mezzo perché comunque sta dimostrando di essere entrato di diritto come difensore titolare inamovibile di questa Juventus. Prestazione ottima con l'Inter, prestazione buona a Verona, prestazione più che buona oggi. Quindi diciamo che mi sta cominciando a conquistare. Lo aspetto ad altre partite molto più importanti, con avversari di molto più grande livello. Non va dimenticato che nella Lazio stasera non c'era il loro centravanti. Quindi, però sicuramente le premesse sono molto buone. Danilo, sei e mezzo, tendente al sette. Partita secondo me perfetta o quasi, ma soprattutto partita da leader. Quindi, perché non gli hai dato sette daemon? Così, lo voglio vedere ancora, lo voglio stuzzicare un po', quindi gli do sei e mezzo. Però, se questo è il Danilo, merita ampiamente la fascia di capitano, giocatore di poche parole, giocatore che sa farsi capire dai compagni. Questi sono i giocatori che piacciono a me. Grande Danilo. Ma per il sette, alla prossima. Quadrado, sei, continua a piacermi poco. Leggermente in ripresa, ma forse anche causa di una Lazio che stasera ha fatto vedere, come dicevo prima, tanta pochezza. Per cui lui è riuscito sulla destra nel secondo tempo a fare anche un dribbling saltando all'avversario come ai vecchi tempi. Che sia l'inizio di una nuova era? Speriamo bene, auguriamoci. Sei. Fagioli, sette. Giocatore sontuoso che ha bisogno di giocare il più possibile per prendere sempre più in mano questo centrocampo. dotato di piede vellutato, grande visione di gioco, ma stasera ha fatto una cosa veramente importante che davvero mi è piaciuta. Quando ha perso un pallone a centrocampo e dopo tre secondi è andato dal giocatore juventino che l'aveva riconquistato a dirgli passami la palla. Beh, questo gesto apparteneva al maestro Andrea Pirlo che diceva sempre tu dammi la palla a me che so io cosa fare. Non voglio paragonare Fagioli a Pirlo, sarebbe ingeneroso per il ragazzo e significherebbe dargli troppe responsabilità che ancora non credo sia giusto dare. Ma se le premesse sono queste, signori, la Juventus per i prossimi anni potrebbe aver trovato veramente centrocampista di cui aveva bisogno. Grande Fagioli. Locatelli, sei e mezzo, partita molto buona, molto buona, non perfetta in un paio di occasioni, soprattutto un'uscita che non mi è piaciuta dalla nostra area, però comunque è un giocatore che sta prendendo sempre più piede. Questo vuol dire se la squadra decide di girare, ok? Se la squadra decide di girare sicuramente risulta tutto molto più semplice anche a lui. Non è un velocista, è un centromediano metodista come veniva chiamato una volta. Per me non è il suo ruolo naturale, però quando gioca con me stasera credo che non è che gli si possa dire molto. Sei e mezzo. Rabiot, sette. Gli do sette e sta diventando un'abitudine che non mi piace mica, sai, perché caro capofficio io le tue battutine ancora non le ho dimenticate. Però ciò non toglie che tra la capra, come ti chiamavo fino a un po' di tempo fa, il capofficio, come tu hai voluto che ti si chiamasse, o Pierrot, come io ti chiamo simpaticamente, beh, devo dire che il rinnovo te lo stai meritando. L'unico problema è che chiedi troppi soldi. Mi dispiace. Prendi sette milioni e mezzo, ti devono fare il rinnovo a sette milioni e mezzo, perché tu sei in arretrato con noi di due anni. Sono due anni dove tu sei stato soltanto una capra e quando hai due anni da recuperare non puoi chiedere più soldi. Sarebbe sbagliato e sono assolutamente contrario a che la Juventus ti dia un aumento. Se vuoi rimanere alla Juventus ci rimani per gli stessi soldi. Detto ciò, partita perfetta, non sbaglia quasi nulla, o per non dire nulla, fa un assist a Ken al bacio, al bacio veramente che vale da solo il prezzo del biglietto, come dico sempre, per cui un sette che ci sta tutto. Kostic, sette e mezzo. Ho sempre detto che questo giocatore non era un fenomeno, ma se messo in un contesto di squadra giusta, come lo fu per l'Iksteiner, che non era un altro fenomeno, ma messo in un contesto giusto, avrebbe potuto eccellere. Bene, la squadra ha cominciato a salire in cattedra e lui di conseguenza. È uscito per un risentimento muscolare, speriamo che non sia nulla di grave in versione mondiale, perché come tutti gli altri lo rivedremo noi a gennaio. Detto questo, altra partita sulla quale non gli si può dire assolutamente nulla. Crea tra l'altro l'assist per il secondo gol di Ken. Cosa gli vuoi dire a un Kostic così? Sette. Ken, sette e mezzo. Por caccia miseria, ho paura che se andiamo avanti così il zatterone rimarrà per qualche mese senza passeggeri. Sono preoccupato. Sono preoccupato. Veramente. Detto questo, se fino a un mese e mezzo fa ti lanciavo con la catapulta, adesso bisogna, bisogna dire la verità, bisogna incensarti. Doppietta anche stasera, puntuale, preciso. Ripeto, gli manca sempre un po' i fondamentali, quello che serve per il controllo di palla, ma non si può negare che il fiuto del gol ce l'abbia. Per cui speriamo che questo miglioramento anche per lui, a livello soprattutto anche di giocate personali, lo possa portare veramente a quel giocatore del quale questa Juventus in questo momento ha tassativamente bisogno. Non voglio parlare di futuro, non voglio parlare nulla. Mi voglio godere il Ken attuale che mi sta dando qualche soddisfazione. Questa è la cosa più importante. Vai così, ragazzo. Sette e mezzo. Milik, sei e mezzo, torna finalmente al gol. Questa è la notizia più importante e ha dimostrato sicuramente anche stasera la sua gran voglia di partecipare alla squadra, al gioco. Si è dato da fare, ha corso molto e questa è una cosa che sicuramente fa ben sperare per il futuro di questa stagione. Questa stagione che era cominciata sotto i peggiori auspici e che adesso per fortuna sembra che siamo in leggera ripresa. Io dico ancora leggera ripresa. Sicuramente Milik è un giocatore che potrà diventare importante come credo che importante lo è stato e lo tornerà ad essere Vlaovic. Io me lo auguro perlomeno di cuore. Milik stasera sei e mezzo perché credo che di più non gli si possa chiedere. Di Maria, Chiesa e Paredes non giudicati per quanto mi riguarda, non giudicati perché hanno partecipato il giusto per fare la presenza quindi poco da segnalare. Allegri, senza voto, senza voto, Allegri senza voto. In memoria di... Ciao a tutti.